Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radiobari in studio Silvia De Sandi. L'apertura alla cronaca, arrestati gli autori dell'omicidio di Antonio Blasi, freddato il 17 settembre al quartiere Stanic, ammazzato per futili motivi. Barbara Cirillo. Antonio Blasi è stato ucciso per futili motivi. Tutto è accaduto nella giornata del 17 settembre, la stessa dell'omicidio. Una lite con la ex convivente, lei non voleva più fargli vedere il figlio. Una discussione che ha coinvolto i tre soggetti ritenuti gli autori di un assassino, tanto efferato quanto assurdo. Giuseppe Ladisa, classe 76, già ai domiciliari e il mandante. A lui, che aveva preso parte della donna, Blasi, a lite terminata, aveva detto non finisce qui. Una minaccia rivolta, uno dei capi affiliati al clan Strisciuglio, un'offesa imperdonabile che va punita con la morte. Il destino di Blasi è segnato, scatta la trappola, e Alessio De Marco, ventenne, anche lui con precedenti, a prelevare la pistola da un nascondiglio nel quale sono stati poi ritrovati proiettili compatibili con quelli rinvenuti sul luogo dell'omicidio insieme a 700 grammi di droga. A sparare, invece, Nicola Ficarelli, sorvegliato speciale, ventottenne. Blasi viene richiamato con una scusa, arriva a bordo della sua moto con un amico, anche lui minacciato. Mentre quest'ultimo, sale nella palazzina in cui abita la Disa per un chiarimento, si consuma l'omicidio. A coordinare le indagini condotte dalla squadra mobile di Bari, IPM, Minardi e Rizzo. Difficile operare in una realtà così omertosa. Tutti i soggetti coinvolti abitano nello stesso complesso, tutti sanno tutto. La ex convivente della vittima, inoltre, la sorella di Baresi, uno dei massimi esponenti dell'Istrisciuglio. Ficarelli viola gli obblighi di sorveglianza fino alla notte dell'arresto, avvenuta tra sabato e domenica e viene coperto anche economicamente da parenti e amici. E qualche telefonata anonima al 113 ad aprire la pista delle indagini, svolte alla vecchia maniera, per strada tra la gente, con ore e ore di interrogatori, tanto da costringere l'autore dell'omicidio a confessare. Direi che la tecnica utilizzata è anche quella di aver isolato l'autore, l'autore materiale, che si è sentito braccato e quindi quando siamo riusciti, dopo 15 giorni, ad individuarlo e a bloccarlo, si è sentito isolato. Rispetto al contesto criminale a cui appartiene e quindi ha deciso di collaborare con la giustizia. Cambiamo argomento, volano gli stracci in Consiglio Comunale. Ecco cos'è successo nella seduta fiume di sabato scorso. Volevo ricordare all'aula, in particolare alla consigliera Melini, che richiama sempre la mia attenzione, che non c'è un obbligo di statuto o di regolamento ad ascoltare necessariamente quello che dicono i consiglieri comunali. Normalmente uno ascolta se dall'altro lato sente delle cose interessanti. Volano gli stracci in Aula Delfino. Nella seduta fiume terminata a 1.57 del mattino della scorsa domenica, la Sise Comunale non ha dato buona prova di sé. E non solo per le minacce delle opposizioni di ricorrere al TAR per annullare la mozione che ha bloccato la verifica del numero legale, ma anche e soprattutto per i toni utilizzati durante la discussione. Uno spettacolo indecoroso, l'hanno definito da più parti. Rimarrà proverbiale la sfuriata del sindaco nei confronti della consigliera Melini, che poco prima aveva tentato di entrare nella sua stanza. Frizioni nel centro-destra, in una guerriglia tutta interna, giocata a suoni e mentamenti. Motivo della tensione, la richiesta di anticipazione del voto sulla variante sul largo Pascià, dove dovrebbe sorgere la tendopoli per i migranti. Tra me e lei, chi ha un indole costruttivo e rispettosa, col sorriso e l'ironia che lei potrà non accogliere favorevolmente nel mio caso, sono io, e chi è sempre poco rispettoso e poco educato è lei. Un protocollo d'intesa come prima pietra per una futura collaborazione tra assessorato al patrimonio del Comune di Bari e il Dipartimento di Ingegneria Civile e dell'Architettura del Politecnico di Bari, finalizzato alla collaborazione scientifica, alla ricerca e alla consulenza per la definizione di problematiche ambientali, energetiche e strutturali relativi alla rigenerazione degli edifici di ERP e più in generale al contesto delle periferie urbane. Bando patrimonio, la giudicazione appare sempre più lontana. Cosa starà accadendo? Ce lo dice Serena Russo. Il percorso doveva essere semplice e rapido, ma la verità è che siamo ben lontani dal traguardo. Si dilatano sempre di più i tempi per la giudicazione dell'avviso pubblico che cercano nuova sede per gli uffici comunali. La soluzione sembrava dietro l'angolo, ad oggi invece è tutto fermo. Solo 5 le proposte pervenute, eppure neanche i sopralluoghi nelle strutture offerte sono stati programmati. La Commissione di Valutazione sta ancora studiando le offerte economiche e tace, ma sul piatto, a rendere ancora più incandescente la storia dell'indagine di mercato, contestata più e più volte dai consiglieri di opposizione, arriva la dura presa di posizione del titolare di una delle società partecipate. La pubblica amministrazione, si legge nella lettera da lui inviata giorni fa ai consiglieri comunali, ha comunicato informalmente la decisione raggiunta prima, durante e dopo il bando. Questo il passaggio incriminato. E il vice sindaco e assessore al patrimonio, Vincenzo Brandi, minaccia a querele. 50 panchine in arrivo da sistemare temporaneamente su via Asparano. Giro per l'ustrativo del sindaco Antonio De Caro, questa mattina nella principale via del commercio barese. Nessuno si lamenta dell'assenza delle palme, ha detto il primo cittadino, piuttosto è la mancanza di sedute a preoccupare i baresi. Detto fatto, De Caro annuncia l'arrivo dei nuovi sedili. E domattina in B&G, a partire dalle 8.10, parleremo proprio di restyling di via Asparano. In studio l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Galasso e la consigliera di opposizione Irma Melini. Festa dei nonni posticipata per i 100 bambini del centro ludico per l'infanzia. 36 mesi, oggi hanno trascorso una giornata insieme. Tanto divertimento anche per chi i nonni li ha lontani in servizio. Tutti a scuola con i nonni. I bambini dei due centri ludici per l'infanzia a 36 mesi hanno trascorso una giornata all'asilo con gli amati nonni per celebrare con un giorno di ritardo la festa loro dedicata. 100 bimbi coinvolti, 50 nel centro del parco Don Tonino Bello e altri 50 nel complesso della scuola Melo. Due turni, uno mattutino e uno pomeridiano. Dopo l'accoglienza, per i bambini dai 12 ai 26 mesi, una storia letta insieme e un laboratorio di creazione di gioielli le rizzati con pasta colorata. Per i più piccoli invece, ovvero quelli dai 3 ai 12 mesi, un laboratorio musicale e poi un tuffo nel semolino o meglio nella piscina sensoriale, rigorosamente in compagnia di nonni e anche di qualche bisnonno. Ho cresciuto le sorelle, ho cresciuto i figli, ho cresciuto i nipoti e i miei pranipoti. E continua a divertirsi? Sì. Non una ma due nonne ho? Due nonne. Due Lucia. Lucia e Lucia. Si torna un po' bambini oggi. È vero, è vero Tommaso? Chi si diverte di più tra i due? Beh, penso io. No, speriamo entrambi. Io certamente non è un divertimento relativo, però c'è un po' di piacere senz'altro, assolutamente. Sono diventata nonna troppo giovane e quindi di lui è diverso. A divertirsi anche i bimbi che i nonni li hanno lontani, come Liao di Taiwan, accompagnato oltre che dalla mamma, dalla sua migliore amica. Sì, mi sto allenando, anche se sarà un futuro molto, molto, molto lontano per me. Comunque con i bambini è bene. O come Lianna, bimba mauriziana, che ha deciso di adottare la signora Anna e di chiamarla nonna. Che è la prima nipote adottata. Noi abbiamo adottato un bimbo e ho adottato anche la nipote. Una storia d'amore con il pancione sarà in tutte le sale italiane dal prossimo 20 ottobre. Piuma, l'ultimo lavoro di Rohan Johnson, arrivato a Bari insieme all'attrice protagonista Blue Yoshimi. Questa sera alle 20.30 al Multicinema Galleria saluteranno il pubblico prima della proiezione straordinaria. Ma noi li abbiamo incontrati questa mattina. E così abbiamo scoperto che anche una piccola paperella, quando è libera, può vivere una grande vita. Oh, santo Sio, ma che sta a fare dentro me? Sta a correre. Piuma, oltre che al Festival del Cinema di Venezia, si candida ad essere il film più leggero dell'anno. Per ragazzi, per la nuova generazione, ma anche per i genitori di questi ragazzi? Ma assolutamente. Credo che in realtà il perno di tutto sia la mia età, onestamente. L'abbiamo fatto un po' per noi e secondo me riguarda sia i giovani diciottenni che fanno il liceo così, sia la generazione dei quarantenni, sia quella dopo, perché non solo i due protagonisti non sono pronti per fare i genitori, ma neanche i loro padri per fare i nonni. E quindi, diciamo, è una commedia corale, leggera, ironica, che però, insomma, credo emozione anche tanto. E insomma, vi aspettiamo in sale il 20 ottobre. Come è stato fare la mamma per finta? Bello, bello, interessante. Mi ha dato modo di studiare un sacco di cose, sicuramente approfondire un po' il tema, anche a livello proprio fisico, biologico, psicologico, che cosa accade. Poi per me, detto proprio sinceramente, è stato un po' dare un ringraziamento, un po' anche onorare la mia di mamma, che anche lei è un'attrice, l'idea vitale, e io sono stata una bambina inaspettata come è stata Piuma. Quindi per me è stato, proprio a livello personale, molto bello poter regalare a me, a mia mamma, diciamo, rivivere, forse dall'altra parte, apprezzare ancora di più tutto quello che ha fatto lei per me. Il telegiornale termina qui, vi ricordo che potete seguire notizie ed aggiornamenti sul nostro sito internet www.telebari.it Ed ora vi lascio al meteo. Ben ritrovati a tutti da Stefania Cattaneo di Trebi Meteo. Il fronte freddo del centro-nord Europa scivolerà verso le regioni adriatiche dell'Italia, infatti porterà lì dei locali temporali, mentre altrove andrà meglio con il ritorno dell'alta pressione, come vedete sul resto del comparto centro-meridionale europeo. Ma entrando nel particolare dell'Italia, come vi anticipavo, abbiamo questi temporali sparsi sul versante adriatico, mentre va meglio altrove al nord, su gran parte di quello tirrenico e sulle isole maggiori. Infine al sud, vediamo insieme la grafica, come vi anticipavo, le isole maggiori torna il sereno e anche su gran parte dell'estremo sud ancora qualche fenomeno, soprattutto tra Dorsale e Puglia. Per il momento è tutto, aggiornamenti su trebimeteo.com Grazie a tutti.